Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Nel nostro video odierno, esploreremo l'identità del compagno di cella di Filippo Turetta. In un momento cruciale per il percorso giudiziario di Turetta, si trova di fronte a decisioni che potrebbero plasmare il corso della sua vita. Con l'interrogatorio imminente, ha l'opportunità di rivelare la sua versione dei fatti o di scegliere di non rispondere, un'opzione che potrebbe dimostrarsi a doppio taglio. I suoi legali stanno considerando una perizia psichiatrica, una mossa che potrebbe ribaltare le accuse e le condanne a suo carico. Attualmente ospitato nell'infermeria psichiatrica del carcere, ha già interagito con psicologi ed educatori, ma il suo tormento interiore rimane incerto. Condivide il corridoio con Benno Neumer, un prigioniero il cui impatto sulle menti di tutti noi è indelebile. Turetta potrebbe presto essere trasferito nella sezione riservata a chi ha commesso crimini contro le donne, un luogo intriso di storie di violenza e rimorso. Il suo inaspettato Angelo Custode, un compagno di cella di circa 50-60 anni, condivide con lui una storia di crimini simili, fungendo da figura paterna guida attraverso le difficoltà della vita carceraria. Nonostante la serietà delle sue azioni, Turetta conserva alcuni diritti, come il poter guardare la televisione, una finestra sul mondo che continua a girare senza di lui. Cosa pensi della sua situazione in carcere? Lascia un commento al video per farci sapere cosa ne pensi. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille